splendida coppia costituita dalla meccanica cd super audio cd dcs verdi la scala e dal dac dcs elgar plus l'elgar fu un dac rivoluzionario quando venne introdotto nel 97 ma ancora oggi si rivela un eccellente dac che sorprende ancora per il suo suono avente una grana finissima una grande gamma acuta una grande solidità sulle basse frequenze questo apparecchio è in vendita nella versione plus dotato anche di ingressi firewire le medie sono liquide e il palcoscenico ha una grande stabilità l'unica limitazione è che legge solo fino a 96 kHz ma provate a pensare quanti sono effettivamente i file superiori a questa frequenza che sono presenti nel vostro archivio per quanto riguarda la lettura del cd e fino a 96 kHz è un convertitore che ha ben poco da invidiare anche rispetto ai fratelli più giovani dello stesso marchio dal prezzo n volte maggiore tramite la meccanica cd super audio cd verdi la scala l'elgar è in grado di riprodurre formato dsd del super audio cd tramite gli ingressi firewire 1394 mostra in pieno le qualità audiofile tradizionali ma evita totalmente suono sterile o clinico e riproduce un ampio palcoscenico con una messa a fuoco precisa considerando che dcs è tuttora in grado di offrire assistenza anche per i suoi primi prodotti sarebbe un peccato non considerare l'elgar e la splendida meccanica verdi la scala sul mercato dell'usato potreste acquistare un pezzo consistente di storia dell'audio digitale qualcosa che ancora oggi può essere considerato una buona macchina da musica a